We Care, prendersi cura, è questo il tema dell'edizione 2024 della Notte Europea dei Ricercatori, in programma venerdì 27 settembre prossimo al campus universitario di Chieti dell'Università d'Annunzio. Dal primo pomeriggio a notte inoltrata, studenti scolereschi e l'intera comunità del territorio potranno prendere parte alla notte universitaria più lunga dell'anno, in cui i ricercatori e docenti dell'Annunzio metteranno a disposizione la conoscenza sviluppata nel mondo accademico attraverso esperimenti, dimostrazioni scientifiche dal vivo, mostre, visite guidate, conferenze, seminari divulgativi alternati a spettacoli, concerti e performance artistiche. Ospiti d'eccezione gli Heimi, una cooperativa formata da professionisti della salute che vogliono diffondere un approccio multidisciplinare di prevenzione e promozione della salute. Su Instagram hanno un milione di follower. La notte dei ricercatori aperta anche e soprattutto ai più giovani e ai bambini sarà preceduta da una serie di eventi che vede tra gli ospiti volti noti, quali Luca Avete e Vincenzo Schettini, il prof di fisica più amato del momento, nonché conduttore. Il ricco programma di eventi della notte europea e dei ricercatori è stato presentato dal rettore dell'Università d'Annunzio Liborio Stupia, dal direttore generale Paolo Esposito e dalla professoressa Elisabetta Di Mauro, responsabile del gruppo organizzatore della manifestazione. We Care, che è prendersi cura delle persone, prendersi l'incarico, è un messaggio forte per dimostrare che quello che facciamo qui dentro non rimane rinchiuso in una torre d'avorio ma poi serve per le persone da tanti punti di vista, da quello medico, sociale, economico, psicologico e via dicendo. Anche stavolta tantissime le iniziative. Sì, perché è un momento in cui noi liberiamo le energie dell'Ateneo e diamo la possibilità a tutti di far vedere quello che si fa, l'eccellenza di quello che si fa e il divertimento che c'è dietro la ricerca scientifica. Perché io su questo insisto, il mondo universitario è un tipo di vita faticosa, impegnativa ma in cui è veramente possibile anche divertirsi nel senso più positivo del termine. Sarà una settimana ricca di eventi che porterà alla Notte Europea dei Ricercatori. Cominciamo il 24 settembre con una sola pausa alle 26, nell'attesa finale del 27 in cui ci saranno ospiti di EIMI che appartengono al mondo social e si occupano di salute e prevenzione. Quindi siamo totalmente nel We Care, nella tematica che quest'anno abbiamo preso di riferimento per potervi dare tutto l'appoggio possibile con la salute, con la prevenzione, con la cultura. Quindi è aperto a chiunque, dal bambino all'adulto. Le scuole saranno sicuramente partecipi di questo, ci hanno dato tantissime adesioni. Il momento conclusivo dalle 19.30 sul palco centrale, tutti se lo aspettano e allora abbiamo deciso di includere i bambini. Quindi ci sarà uno spettacolo con un'orchestra d'archi e un coro di piccolissimi e a seguire ci sarà il nostro coro di Ateneo. Intanto il 25 torna alla festa dei laureati. E allora abbiamo voluto che l'ospite di eccezione per questo ritorno sia una figura a cui siamo ormai legati che è Vincenzo Schettini. Il professor Vincenzo Schettini che appunto sui social spopola e attualmente anche in un programma perché non piace solo a noi ma piace a tutti.